Anticipazioni una vita. Trama puntate. Mercoledì 18 agosto 2021. Felicia e Marcos alla fine fanno pace e lui la invita a mangiare insieme. Il tavolo che ha prenotato però sarà per quattro persone. Felicia si domanda chi sia la persona che Marcos porterà con sé a mangiare. Intanto Casilda riceve un altro telegramma inquietante ed è molto preoccupata non avendo idea della provenienza di tutti i messaggi. Marcellina decide finalmente di perdonare Jacinto ed è felice di tutte le cose che suo marito ha fatto per conquistarla. Fabiana scopre definitivamente che è servante a organizzare una serie di dispetti ai danni di Rosina e che per colpa sua lei sta avendo una brutta esperienza con la pensione. Fabiana è disperata e dice di non farcela più con un simile compagno di lavoro. E Noveva è ancora incosciente e ogni tanto ha anche delle forti convulsioni. Felipe le è accanto ma non è preoccupato né per lei né per il bambino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.